Merhaba arkadaşlar, ciao a tutti benvenuti in questo corso di base sulla lingua turca mi chiamo Özgavarda, sono di Smirne, in Turchia, una città molto molto bella a ovest della Turchia e vi propongo questo corso nel contesto del mio servizio volontario europeo e con il nome nuovo Corpo Europeo di Solidarietà in collaborazione con il Progetto Giovani Comune di Padova. In questo video vi spiegherò la struttura delle lezioni e come sarà il corso di avvicinamento alla lingua turca. L'obiettivo di questo corso è farvi conoscere le basi della lingua turca, alcuni valori della cultura turca e anche creare una conoscenza basi di turco. In questo videocorso turco ci saranno più di dieci video e anche corrispondono con gli esercizi e correzioni di esercizi. Se avete alcune domande vi lascerò il mio email, quindi mi potete contattare. Condividerò anche alcuni siti, canzoni e suggerimenti su come migliorare il turco con noi. La lingua turca è una lingua appartenente al cerco August delle lingue turche con circa 125 milioni di madrelingua in Turchia, a Cipro e in Germania e sparsi per il mondo. Tutti dicono che il turco sia una lingua super difficile da imparare però se avete il desiderio e un po' di pazienza niente proprio per mali dell'impararla. Ecco, puoi parlare? Beh, fallo tu, fallo tu! Sì, va bene? Prova a parlare! Ok, meno barco da stare, ciao! No, no, no! Ciao!